Consigliere Blasioli, oggi approvata in Consiglio regionale la risoluzione su San Liberatore a Maiella. Sì, all'unanimità, siamo felici per questo, la risoluzione che impegna la Regione a riperire 50.000 euro per la messa in sicurezza dell'unica strada di collegamento tra Serra Monacesca e la bazia di San Liberatore a Maiella. È una strada che attualmente ha senso unico alternato, con l'inverno si temono maggiori precipitazioni e quindi maggiori smottamenti per arrivare a questa bazia che è il monumento nazionale dal 1902 una bazia del 1007, stile romanico, uno dei più belli d'Europa insomma anche per il modo in cui si staglia in questo patrimonio verde è veramente una rarità del nostro Abruzzo. Ecco, noi chiediamo che nel momento in cui ancora attendiamo che si mettano a regime e a strategia molti degli edifici culturali, lì vicino c'è anche il volto santo di Manoppello della nostra Regione Abruzzo per favorire un turismo religioso, quantomeno si renda possibile l'avvicinarsi alla bazia di San Liberatore a Maiella.